Scusatemi tanto per... ...per... 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 ...una terza più ma dai eh... ...no scusatemi tanto... ...volevo vedere... ...veglio vedere intanto cosa c'è qui... ... ... ... ... ... ...viamo... ...ah no è vero... ...questa era... ...è vero che c'è bisogno... ...de un'altra cosa che io... ...per questo momento non ho... ...ma che bisogna andare... ...sopra... ...e come... ...e sai... ...ahhhh... ...oh vado... ...e che fai... ...a me... ...ma... ...ma non faccio... ...ma tu sei... ...ma non vai... ... ...me ne manca uno... ...ma se non erro... ...e che era giusto... ...prova andare lì... ...e mi sa... ...sì sì sì sì... ...era giusto qui... ...era giusto qui... ...era giusto qui... ...no solo... ...so che bisognava... ...fare per così... ...eh... ...infatti vedi che qualcosa io mi ricordo... ...è... ...ci sono le persone... ...dei rivetti... ...in cui io mi ricordo... ...eh... ...è... ...eva... ...è... La rinocchia di Teonaco, un amuleto, sopra il tuo destino, ti permetterà di muoverti rapidamente nel tempo, mentre troppo la notizia di Teonaco. Ancora non ho le ali, è vero, quello che lo do forte. Chi è qui? Mi mancano solo due di piume, è qui l'occhio, ti prego, sii, hai gli occhi completati e allungali la vita, e vai. Grazie.